Ma ragazzi per sfogarci di brutto, secondo me questo blocco è perfetto, abbiamo realizzato un faccia a faccia con le voci delle pecore urlatrici, questa è la fobia di Poldone Lo Zoo di 105 presenta Faccia a Faccia, il modo migliore per far incazzare qualcuno Oggi nel faccia a faccia abbiamo usato la voce di... Pronto? Pronto Sì buonasera, le passo un attimo il sindaco mi scusi Si vissi un canchero Un canchero Signor Antonio le passo un attimo la segretaria Di cosa? Sì buonasera Sì buonasera Ma che scherzo eh Pronto? Buonasera signora, le passo un sindaco di Marcelliso Un attimo Addirittura il sindaco Prego il sindaco, parli Ma il sindaco urla così? Perché urla il sindaco? Paaaaaaaaa Mi sentivo il sindaco così? Pronto? Miura passare il sindaco le ha detto? Paaaaaaaah Inutile che urli Paaaaaaaaah quando parli allora ti do risposta e allora si parla o no? porco ma questa era la segretaria del sindaco perché viene messa a pecora